Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale in questo nuovo video è molto molto strano per me pronunciare questa frase, questa intro al video in ASMR perché non lo faccio mai, nel senso che di ASMR io pubblico quasi sempre e soltanto dei video roleplay perché sono quelli che mi piace di più registrare, invece i video dedicati alla moda, al beauty, al make up eccetera cerco di caricarli con la voce normale perché è esterna un'altra parte del mio carattere allora, oggi è giorno di filming, nel senso che oggi pensavo di registrare e ho detto perché non tentiamo l'impresa impossibile allora, praticamente vorrei farmi i capelli con voi perché veramente sotto ogni video oltre al video di come realizzo il mio make up che ora vi andrò a spiegare e ricevo veramente tantissime tantissime richieste di come realizzo la mia piega quella mossa che ho praticamente nella stragrande maggioranza dei miei video ho pensato di andare a provare a riprendermi mentre faccio i miei capelli, la mia piega insomma nonostante questo video potrà essere davvero un epic fail perché è proprio, cioè, arrangiatissimo innanzitutto voi mi vedete in una postazione diversa fatemi anche sapere se questa postazione con questo sfondo vi può piacere anche rispetto alla mia classica colonna russa una cosa che è esattamente guindinissima premessa che voglio fare davvero riguardo all'arraggiamento di questo video è che come davvero vi ho detto tantissime volte io non ho materiali, non ho postazioni super attrezzate, super tecnologiche o comode quindi siete praticamente bilicos, una sorta di cavalletto arraggiato ho il mio ferro a portata di mano e proveremo a fare questa piega insieme sperando di potervi comunque rilassare e anche divertire, intrattenere altra cosa che volevo dire riguarda il video sul make up anche questo me lo chiedete tantissimo proverò ad arrangiarmi a farlo però risulta comunque più complicato di questo dei capelli perché dovrei posizionare anche uno specchio e davvero o faccio qualcosa contro la forza di gravità e lo faccio fluttuare in aria oppure è davvero un problema quindi sto cercando di arrangiarmi il più possibile per poter portarmi anche questo video sul canale allora ragazzi intanto iniziamo così procediamo anche con qualche rumorino allora intanto direi di andare a spazzolare i capelli io li ho appena lavati, li ho lavati questa mattina quello che vedete ora è il risultato praticamente di averli tenuti in una sorta di concio di crocchia per una mezz'oretta nel mentre che mi troncavo e sistemavo il tutto quindi hanno questa sorta di mosso un po' a caso mentre in realtà i miei capelli sono lisci come degli spaghetti quindi intanto andiamo altra cosa le mie unghie ho dovuto limarle a casa e quindi praticamente ho una ricrescita fino a questo punto sono una cosa importante ovvero si fa ovvero si fa di necessità per tutti visto che è ancora dall'esternista non ci possiamo ovviamente giustamente ma non ho mai registrato una sorta di tutorial? spero spero mi possa piacere nonostante davvero le volte mi intenda i capelli ho imparato questa piega e faccio sempre questa senza di base averla mai studiata non ho neanche mai visto un tutorial di chissà che tipo infatti vedrete che faccio delle cose molto strane però il risultato comunque mi piace andiamo allora allora quanto vorrei che in realtà questa cosa me la stesse facendo qualcuno ho sempre adorato farmi pettinare i capelli è la cosa che mi rilassa di più in assoluto veramente in assoluto però nella mia vita sono sempre stata io quella che pettinava truccava proviamo con un'altra spazzolina un altro pettine che adoro in questo periodo perché mi piace un sacco piccolino è questo micropettino di legno questo è un micropettino di legno spero che si senta è carinissimo e più il legno da quello che so io fa benissimo spazzolarli proprio con queste spazzoline che non spezzano i capelli e aiutano davvero anche proprio quello capelluto da quello che so il capello in sé però mi ripeto sono abbastanza ignorante ma ok iniziamo se no ragazzi non finiamo più allora io solitamente vado a fare la mia riga quindi io ho la riga vedete che ci vanno anche da soli esattamente qui è una riga centrale ma non troppo un po' raggiata e procedo a sezionare i capelli quindi divido praticamente la parte dei capelli scalati non ho extension assolutamente la parte dei capelli scalati da quelli più lunghi ok una volta dopo averli raccolti divido praticamente centralmente i capelli li pentino bene e li porto un po' a sinistro un po' a destra cerco di allontanarmi un po' scusate ragazzi se non si sentirà benissimo l'audio però devo stare un po' troppo lontana ok io inizio sempre da questa parte vado a prendere il mio ferro che anche questo praticamente è abbastanza vecchio ne ha viste di tutti i colori lo volevo comprare prima dell'inizio della quarantena poi ho detto che lo comprova però va il suo lavoro allora io lo utilizzo in un modo tutto mio perché ho trovato questa tecnica allora io parto dall'esterno e vado a prelevare una giocca non troppo grande neanche minuscola e io praticamente procedo in questo modo attorciglio tutto attorno in questo modo qui aspetto qualche secondo io non aspetto tanto perché ho i capelli molto molto fini quindi non c'è bisogno di attendere tanto e lascio andare e viene fuori il mio ricciolino procediamo vado un po' veloce qui ragazzi altrimenti viene un video veramente infinito anche se spero che voi nel mentre vi stiate anche rilassando un po' nonostante la mia incapacità veramente io alla fine in tutto poi li apro un po' lì viene un termine tipo indietro ma di oro però praticamente lì spettino un po' fatto il secondo ricciolino mando indietro ovviamente ci metterò molto di più rispetto a quanto io ci metto da sola perché chiaramente devo sempre stare attenta che si stia riprendendo il tutto procedo praticamente in questo modo per tutta la parte dei capelli voilà e lascio andare praticamente quello che viene fuori da questo è un rizzo abbastanza definito però è anche un rizzo che con passate con le mani diventa anche abbastanza naturale quindi a me piace molto cioè almeno questa è la piega che faccio sempre che mi vedete in tutti i miei video voilà se sentite tra l'altro dei tipo rumori un po' croccanti è questo ferro che in alcuni punti vedete alcuni movimenti fa questi rumori è anche carino come rumori nonostante sei veramente vecchissimi ho sempre fatto il suo dovere quindi ho sempre rimandato il momento di cambiarlo e credo che ancora per un po' resterà con me vedo tutti quei ferri che sicuramente hanno veramente molto molto molte più qualità molti pregi rispetto a questo però sinceramente una volta che arriccio i capelli non vedo perché dovrei spendere un sacco di soldi per prenderne uno che fa la stessa cosa boh magari rispettiamo intanto vi volevo chiedere avete mai provato il dyson? adesso sento di parlare di parlare di questo fattomatico da dyson mi incuriosisce anche penso che sia molto figo però per lo stesso discorso che vi ho appena fatto non mi sono mai mai sognata di prenderlo ecco qua questi questi ricci in questa zona qui punto a farli sempre la parte più sottostante perché sopra appunto arriveranno quelle della parte più scalata quindi ci saranno già i rizzi a quest'altezza qua insomma voilà ok e così completiamo questa parte di qua adesso ci spostiamo dall'altra parte quindi scopri sono un po' diverso io da questa parte li faccio in maniera diversa perché essendo distorsa e non manca mancina a farli nello stesso modo non riesco quindi io praticamente seleziono sempre la mia ciocca ma l'altro ciclo è dal verso opposto praticamente quindi dal di qui vado in alto questo è il mio trucco per riuscire a farli abbastanza simili ma riuscire comunque a farli anche da tutte e due le parti vedete da questa parte vado anche più veloce solitamente perché faccio tutto con la testa quindi sono avvantaggiata come credo cioè io chiedo scusa intanto a tutte le parrucchiere in ascolto veramente perché Dio solo sa però credo anche che in queste cose ci voglia un po' di cioè voglia comunque di crearsi quello che è il nostro metodo personale fatemi sapere quale piega vi fate voi a casa se siete capaci se siete ovviamente che sarete veramente 500.000 più bravi di fare questa piega in caso datemi dei consigli perché ne ho sicuramente sicuramente bisogno intanto procedo 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 vedete in alcuni vado un po' più su in alcuni più giù cerco comunque di fare vedete quanto si accorgiano assurdo e cerco comunque di fare di ottenere un effetto abbastanza naturale alla fine di tutto perché mi piacciono molto di più quei ricci molto morbidi un po' più naturali però ho contato in video tantissimo che i capelli mossi cioè non dolci magari mossi di natura quelle otte belle tipo stupende veramente molto estive invece quei boccoli super chiusi cioè mi ricordano troppo tipo la comunione e la cresima quando praticamente avevo una testa di capelli a boccolo cioè ve lo giuro non vi raccomando neanche ho delle foto dove sembro una dama del 500 con quelle barrucche bianche cioè una roba veramente inguardabile però ero una bimba ero tutta fiera dei miei capelli super buccolosi poi sto facendo un casino ecco qua male nel mentre di cosa chiacchieriamo voi vi siete mai tinte capelli parliamo di capelli rimaniamo in tema io non ho mai fatto tinte vere e proprie ho fatto per parecchie volte degli shadow dei riflessanti eccetera questo che vedete è il mio colore naturale che è un castano scuro perché comunque sono scura ma diciamo che ha dei riflessi di suo che poi ho fatto sempre da centoare quando i colpi di solo ho delle cose così nel mio passato sono stata molto più pionda perché avevo fatto parecchi colpi di sole oppure lo chatouche molto alto sono stata anche rossa sembravo ve lo giuro cioè è una roba inguardabile ho riscoperto delle foto è un colore che proprio non mi dona per niente sono sempre stata convinta che questo che è il mio colore naturale sia quello che mi dona in più ma c'è una ragione secondo me perché nasciamo con un colore insomma e anche se appunto ora quando l'animo dell'estate la mia idea era prima che il mondo mi disse praticamente di farmi più riflessi praticamente una sorta di schiarente nelle punte per avere appunto i capelli un po' più chiari almeno appunto ho sempre appunto l'idea di essere più oscura in inverno più chiara d'estate ok ragazzi abbiamo fatto la parte sotto ecco qui questo è più o meno il risultato vedete io li apro un po' con le mani adesso andiamo a fare la parte superiore quindi eliminiamo il nostro elastico vedete ho il triplo dei capelli perché sono scaladissimi quindi ce ne ho molti di più qui in alto insomma andiamo una pazza scappata da un manicomio praticamente ok andiamo qui facciamo lo stesso dividiamo e io faccio esattamente la stessa cosa ma stavolta non vado a sezionare i capelli sinceramente mi trovo bene comunque così vado a dare una bella pettinata e iniziamo a fare questa parte qui prendo l'ultima giocca indietro e qua vado ad attorcigliare praticamente sempre fino a un pochino più in alto per andare comunque a dare un effetto di volume che è quello che a me manca sempre perché avendo i capelli liscissimi il volume è qualcosa che non ho ok voilà attorcigliamo 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 voilà 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 aspettiamo un altro secondino poi giù questa parte qui in alto è la più rischiosa se vogliamo perché le volte prendono veramente una piega terrificante magari uno lo faccio un po' più piccolo un po' più grosso si creano proprio dei punti che non mi fanno impazzire ecco qua ecco qua adesso mi metto a registrare qualche bella roleplay intanto colgo davvero l'occasione per ringraziare tantissimo per il supporto nonostante il mio assenteismo dell'ultimo periodo sto cercando di assegurare tutte le richieste che mi state facendo e spero davvero di farcela intanto vi invito sempre a lasciarmi qui sotto ogni genere di richiesta davvero che volete farmi qui mi ho dato un po' più lunga che vado a fare così voilà mi rendo sempre più conto di quante facce assurde facciamo noi ragazze quando ci facciamo i capelli o ci trucchiamo cioè io adesso mi sto rendendo conto di avere uno sguardo che sembra proprio l'assassina vabbè ormai siamo in confidenza ok stiamo iniziando a vedere una parvenza di piega terminiamo questa parte qui centrale che è abbastanza fondamentale vedete la differenza infinita non mi dispiacciono comunque i capelli lisci infatti in parecchi video e soprattutto agli inizi mi vedevate anche con i capelli lisci infatti stamattina mi è venuto in mente per fare questi video quindi questa sessione di registrazioni che però stamattina avrò in tutti i capelli mossi infatti li ho appena fatti con voi se ogni tanto vi perdete tipo un attimo e mi ritrovate con un reggiatore cipio è semplicemente perché il cane della famiglia dei miei vicini insomma di qui davanti è impazzito cioè sta abbagliando come un matto non ne potrebbe neanche il ruppurino e soprattutto poi è dietro la postina che sta passando ora quindi anche il motore di mezzo per questi fantastici buoni voilà ok raga abbiamo finito una parte ora non le lasceremo ovviamente così però le lasciamo così nel mentre che finiamo anche questa altra parte da qua abbiamo una parte finale andiamo a pettinare voilà ok controllo di aver preso tutti i capelli infatti questa parte qua mi serve perfetto così praticamente tipo i due lati di me ok andiamo con questa altra parte ok ok ragazzi andiamo con l'ultima parte vado a prendere le varie gioche e terminiamo questa piega bel video enorme questo anche rispetto al solito è praticamente un video super casalingo perché sono anche ancora vestita da casa con la mia maglietta prima appunto di magari mettere qualcosa di più carino per fare il role game o di più adatto al personaggio che devo interpretare ecco ecco era veramente tantissimo che volevo registrare questo video però non avevo mai trovato l'occasione voilà sicuramente utilizzare un po' più accesso ai cioppi cose sarebbe più indicato però vi garantisco che ho cercato di farvi il video che più rappresentasse la mia routine di capelli ed è esattamente questa proprio al mille per mille io non spesso non ho a portata di mano tappi elastici di qualunque forma e dimensione anche perché li perdo tutti cioè sono quelle cose che perdo 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 di continuo e come quando non so tipo i calzini che c'era sempre uno oppure tipo una cosa che io perdevo sempre erano le gomme cioè vi prego ditemi che anche voi alle scuole alimentari o anche i video superiori perdevate le gomme ho tipo comprato più gomme che altre perché li perdevo tutte secondo me me ne fregava voilà siamo arrivati ad una fine ecco qua ci mancano pochissimi passaggi ok 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 Ecco qua Siamo arrivati praticamente Al giuffo Intanto mi sono trasformata Non sempre più io Comunque vi ripeto A me piacciono sempre di più Dopo anche qualche ora che li ho fatti Non tanto di più perché Con i miei capelli dopo qualche Cioè parecchie ore non li ho fatti Però dopo un paio d'ore Mi piacciono molto di più Perché sono più naturali Ok ragazzi Lasciamo Perfetto Abbiamo praticamente Praticamente fatto tutta la piega A questo punto A volte applico oli Cose di questo tipo Ora non applico nulla Perché mi vanno giù prima Quindi cerco anche di toccarli Il meno possibile Però una cosa che faccio sempre Andare in mezzo con le mani Ecco qua Ed ecco qua i nostri capelli Mossi Come li faccio io Praticamente Ora sempre Maria Callas Però Vi giuro Ho Hagrid A secondi punti di vista Vanno un po' sistemati Però a grandi linee Questi sono i capelli Che mi vedete Veramente in ogni video Cioè guardate la differenza Rispetto a prima A livello di volume Ce ne sono il triplo Questi capelli E nulla Ora Li vedrete comunque Nei altri video Che pubblicherò Saranno sempre questi Sarà questa piega qui Però un po' scesa O magari un po' toccata E nulla Io ragazzi Spero davvero Che questo video Vi sia piaciuto Che vi abbia rilassato Che Mi possa aver dato Qualche spunto Anche se davvero Dubito Perché Più auto di tanto di me Nessuno mai E nulla Io ragazzi Corro a registrare Vi mando Un grossissimo bacio E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao